Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, due chilometri di coda per il ripristino di un incidente tra Valdichiana e Chiusi. In direzione Bologna, rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico Baccheraia e rallentamenti sulla variante di valico tra Firenzuola e Badia. In A12 a Bisa Nord chiuso per lavori l'allacciamento tra la 11 con provenienza Lucca e l'A12. Sulla FIPI, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Rallentamenti per lavori tra Montopoli-Valdarno e Pontedera-Ovest-Ponsacco in direzione Mare. Infine per i treni per accertamenti dell'autorità giudiziaria a Orte Nord, i treni percorrenti la linea tra Firenze e Roma potranno subire ritardi o variazioni. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!